Sava non affogna e davvero ora non può più aspettare. Il problema al centro del dibattito politico da almeno 20 anni non è stato ancora risolto. Con questa amara constatazione i savesi hanno deciso di organizzare una grande mobilitazione, programmata per domenica 27 novembre. L'iniziativa è stata decisa nel corso di una riunione che si è tenuta nella sala consigliare, alla presenza del sindaco, avvocato Dario Iaia, del presidente del comitato cittadino di salute pubblica Giuseppe De Maglie. Negli ultimi giorni il dibattito si è nuovamente acceso in quanto all'emergenza igienico-sanitaria ambientale si è aggiunta a quella della sicurezza dopo che si è sfiorata la tragedia a causa del crollo all'interno di un cortile delle palazzine popolari dell'arca ionica, del solaio di una fossa biologica, ricolma di liquami. Il sindaco di Sava ha scritto una nuova lettera, stanco di continue promesse, e rinvide la soluzione legata alla realizzazione del depuratore consortile, il cui progetto, come è noto, è al vaglio di possibili modifiche da apportare per evitare lo scarico a mare, contestatissimo dalle popolazioni di Manduria e da Vetrana. Il grido d'allarme questa volta è stato lanciato, oltre che al presidente Emiliano e all'assessore regionale Giannini, anche al presidente della Repubblica, Mattarella, e del Consiglio, Matteo Renzi, e a quanti potrebbero avere la responsabilità su questo mancato avvio dei lavori. Sono stati inoltre richiamati dati rilevanti sulla mortalità riguardanti la cittadinanza savese. Noi vogliamo che l'amministrazione Iaia con gli consiglieri limitrofi vengono a darci una mano per far sì che anche noi facciamo sentire la nostra voce e i nostri diritti. Noi non vogliamo la guerra fa proveri, per carità di Dio, ci mancherebbe altro. Noi vogliamo che anche noi sentirci uguali a tutti gli altri paesi del paese Italia. Io quando leggo notizie, ho cercato in vano di mettermi in contatto con il giornalista ma non sono riuscito ad avere risposta, quando vedo notizie di questo genere dove l'Associazione Uniti per San Pietro in Bevagna, con tutto rispetto per carità è sempre un'associazione come lo siamo noi, mi dichiara, sottolinea che è certamente giusto provvedere al risanimento igienico sanitario del territorio savese. La mia domanda è questa, ma di che cosa stiamo parlando, signore Mè? Ma San Pietro, Manduria, dove scaricano? Il loro territorio non ha bisogno di una sanificazione. Noi, con tutto rispetto dei manduriani e degli avetranesi, ripeto, stiamo dando segno di grande civiltà. Noi ci teniamo al mare, che sia chiaro quanto ci tenete voi. È chiaro? Noi vogliamo questo presidio sanitario che è indispensabile per tutti, per noi e per tutta la comunità. Non stiamo chiedendo niente. Non sta a noi stare a poter programmare, progettare come, dove, a noi ci interessa avere un servizio fognario. Basti pensare che l'antica Roma aveva le fogne, ma è mai possibile che nel terzo millennio dobbiamo ancora noi controllare i nostri pozzi a vedere il liquame a che livello è arrivato, se devo o meno chiamare l'autospurgo? E' vergognoso. Quindi, pertanto, scusatemi, non vogliamo più aspettare, siamo esasperati, vogliamo che tutte queste parole si vengano o devono essere tramutati in fatti. Dessano profonda preoccupazione ed allarme. I dati rivenienti dallo studio, rapporto di mortalità 2015, redatto dalla struttura complessa statistica epidemiologica dell'ASL di Taranto, in collaborazione con l'osservatorio epidemiologico della Regione Puglia e con il Centro Salute ed Ambiente, scrive nella sua lettera d'invito di Fida il sindaco Iaia. Da tale studio si apprende come nel comune di Sava ci sia un eccesso di mortalità, rispetto alla media dell'intera provincia, e più precisamente del 29,2% per gli uomini, del 79,4% per le donne per i tumori di trachea, bronchi e polmoni, del 30,4% per le malattie del sistema cardiocircolatorio, del 32,4% per malattie cardiache, del 43,4% per malattie ischemiche, del 48% per cardiopatie ipertensive, malattie renali ipertensive, del 45% per malattie respiratorie, del 60% per bronco o pneumopatie croniche o struttive. Vi è da dire, aggiunge il sindaco, che ad oggi non esistono studi o perizie giudiziarie che consentano di collegare direttamente o indirettamente tale livello di patologie e di mortalità all'assenza di sistema di depurazione e la presenza massiccia di fosse biologiche nel nostro territorio. Purtuttavia, nessuno può escludere che questo stato di cose non influisca in maniera negativa sulla salute dei savesi. Sava è stanca, è stanca delle tante parole, delle tante false promesse. Noi non vogliamo entrare nella polemica dello scarico a mare, scarico a mare sì o scarico a mare no. Noi pretendiamo come cittadini di questa Repubblica, come cittadini italiani, di avere un sistema fognario, un sistema di depurazione che sia degno di questo nome. Io ieri ho inviato una lettera al Presidente Emiliano, all'assessore Giannini, al Presidente della Repubblica, al Presidente del Consiglio, al Ministro per l'Ambiente, al Presidente di ACUPI, perché la situazione nel nostro paese è assolutamente grave. È grave per i dati di mortalità assolutamente più importanti rispetto a quelli della provincia, di tutta la provincia di Taranto. È grave perché ci sono situazioni di sicurezza pubblica che stanno venendo meno. Basti pensare al crollo del solaio della fossa biologica. Allora non vogliamo continuare e farci in qualche maniera coinvolgere nella polemica politica, nella speculazione. A noi non interessa quale sarà la soluzione tecnica. Noi pretendiamo che il depuratore venga realizzato, perché peraltro Sava ha già 57 km di defognare esistente e mi sembra veramente paradossale che i savesi debbano ancora urlare, debbano ancora chiedere a gran voce quello che è un loro diritto. E per questa ragione il 27 novembre tutti insieme e tutta Sava, tutti i cittadini grideranno con grande forza, con grande determinazione, ma anche con grande rispetto che questa situazione non può più andare avanti, non è più tollerabile questo stato di cosa. Quindi il 27 scenderete in piazza? Sì, il 27 scenderemo in piazza. È un appello che facciamo a tutti gli ambientalisti del territorio, perché oggi il depuratore di Manduria sta inquinando la falda, i nostri comuni stanno inquinando la falda. è un appello che faccio a tutti i savesi, dobbiamo far sentire la nostra voce, vogliamo una risposta da parte del Presidente Emiliano e questa risposta sembra non arrivare mai, anzi, sembra che la risposta si allontani sempre di più. Al fianco della popolazione savese si è schierata Francesca Franzoso, consigliere regionale di Forza Italia che giunge a delle conclusioni anche possibiliste sulla condotta sottomarina, mettendo sulla bilancia da una parte i disagi genico-ambientali riscontrati non solo a Sava ma anche a Manduria che attualmente non depura per niente le acque reflue che finiscono direttamente in falda e dall'altra la possibilità di riutilizzo in agricoltura dei reflui depurati con un riversamento emergenziale in caso di troppo pieno. Una posizione condivisibile o no che poggia però le basi sull'urgenza della realizzazione dell'opera e sulle attuali leggi che nessuno sinora ha modificato per evitare lo scarico a mare. Lei dice che quello della condotta sottomarina è un falso problema? Sì, assolutamente sì. Data l'evoluzione che il progetto ha avuto in tutti questi anni e quindi l'affiancamento al sistema di depurazione del trattamento di affinamento delle acque che praticamente rende disponibile una quantità di acqua notevole da riutilizzare per i fini irrigui sinceramente non riesco a comprendere se quell'acqua può essere utilizzata per irrigare la piantina perché non può essere sversata nel mare e quale danno potrebbe arrecarle anzi semmai il problema è il contrario bisognerebbe preoccuparsi di recuperarne quanta più possibile per non sprecarla nello sversarla nel mare. Ecco però il presidente Emiliano ha promesso che non ci sarà nessuno scarico a mare come conciliamo i cittadini non crederanno più nella politica se si promette una cosa e poi non si mantiene guardi se c'è una cosa che ho imparato in questo anno e mezzo è che non c'è peggior nemico della politica che andare a raccontare cose che oggi non possono essere supportate e sostenute da norme e da tecnica io non so come lui farà ad evitare la condotta sottomarina perché oggi sia il legislatore nazionale prevede solo ed unicamente la condotta sottomarina ma anche il modello idraulico non so come potrebbe essere collaudato un sistema idraulico senza uno scarico emergenziale perché ovviamente con il riutilizzo noi parleremmo solamente dell'utilizzo della condotta per il troppo pieno ossia nei periodi invernali quando aumentano le piogge gli invasi diventano pieni il terreno saturo allora si farà ricorso alla condotta io sinceramente quali documenti il presidente Emiliano scritti da geologi e da ingegneri abbia potuto visionare per poter affermare una cosa del genere lo ignoro le posso dire che io anche la settimana scorsa sono stata un paio d'ore negli uffici della regione ho acquisito tutti gli atti e non c'è un documento tecnico oggi a supporto delle dichiarazioni del presidente